Menzogna e sortileggio l'ho riletto di recente. Ne parlo perché in qualche modo sono legata sentimentalmente a questo libro, perché è accaduto che quando Elsa l'ha scritto, me l'ha mandato, io ero a Torino e lavoravo alla casa editrice in Audi, e non mi sono mai potuta spiegare perché l'abbia mandato proprio a me e non, per esempio, a Pavese, che era allora molto più autorevole di me nella casa editrice. Io ero orgogliosa di aver conosciuto una persona così di tanta grandezza e penso che sia stato uno dei beni della mia vita di aver conosciuto una persona come Elsa. No, non sentivo competizione, no, non credo. Io mi è capitato di invidiare la sua grandezza, di aver pensato vorrei essere anch'io grandissima, questo sì, ma non era una cosa che intossicava il mio rapporto con lei, no, perché quando leggevo i suoi libri, le amavo tanto che l'invidia spariva. Ma lei la considera proprio un classico? Io la considero uno dei grandi scrittori del nostro secolo, uno dei grandi scrittori. Lei voleva che si dicesse scrittore, non scrittrice. E aveva ragione in qualche modo, perché uno quando scrive scavalca il proprio sesso, cioè lo conserva ma lo scavalca, è difficile spiegare. Essere una donna per uno scrittore è come per Svevo essere triestino, cioè nelle radici del suo scrivere, ma è anche qualcosa che viene oltrepassato.